Noi siamo a manifestare la solidarietà dell'Ivv perché ci troviamo in una situazione simile purtroppo. Abbiamo dei problemi finanziari, abbiamo un concordato, abbiamo una liquidazione oatta, quindi ci porta a sentire ancora di più la solidarietà verso i lavoratori della FIMER. I lavoratori dell'Ivv portano la loro solidarietà alla FIMER, ma nel contempo lanciano il loro grido di allarme. La storica vetreria del Valdarno, che ha sede a San Giovanni Valdarno, non produce più dallo scorso novembre. I costi del caro energia in particolare hanno causato importanti problemi. Tramite LegaCop abbiamo fatto richiesta al Mise di liquidazione coatta, dice Simone Carresi, presidente dell'Ivv. Sono stati individuati tre commissari, attendiamo la nomina, il tempo non è certo dalla nostra parte. In questo modo si potrebbe interloquire con i soggetti che hanno manifestato interesse e poi pensare alla ripartenza, altrimenti si rischia di perdere un altro marchio del Made in Italy. Sì, anche i VV, perché anche loro vivono una situazione difficile. Peraltro è un'azienda che fa parte proprio di questo tessuto culturale. Sicuramente ci sono generazioni di lavoratori e lavoratrici che si sono avvicendate in quell'azienda, quindi anche con loro è importante capire come si può fare per uscire da questo stallo, perché poi loro continuano a vendere ma non producono più. Quindi voglio dire perché una tradizione come questa non deve continuare. È una situazione non idillica, anche per il Valdarno sono sempre 300 famiglie, che diventa un problema, sia ricollocarle, trovare un nuovo lavoro. D'altra parte quando si comincia ad avere 50 anni, hai fatto sempre questo mestiere, diventa difficile essere ricollocati, c'è da fare una formazione, quindi è importante trovare una soluzione.